Signore e signori, se siete facilmente impressionabili, vi consigliamo di non assistere a questo spettacolo. Se al contrario vi piacciono le emozioni violente, allora questo film è per voi. Corpo dentro un letto, sangue maledetto, corpo di una morta la vita ti andrà storta. Se dritta vuoi che vada, devi seguire la strada, la strada della vita. E se te è ancora cara, porta pace nella para. Dov'è? Dove l'hai nascosta? In un posto più sicuro che non il tuo furgone. Io ti ammazzo, attenta che ieri sono. Francesco, voglio essere tua prima di morire. Non devi parlare così, neanche la morte ci separerà. Perché sei tornata in questa stanza? Voglio restare solo con mia madre. Francesco, tua madre è morta. Anche Anna è morta. Non devi sbarazzarti di questo stupido pupazzo. No! E invece vi, lo farai finire. Tre giorni fa è stata denunciata la scomparsa di una ragazza. L'ultima volta è stata vista vicino a questa villa. L'ha vista anche lei per caso? No. Voi chi siete? Polizia. Puglio o meglio? Se vi piacciono le emozioni violente, questo film è per voi. Grazie a tutti.